E siamo tutti No Tav. Tutti quelli che ci sono qui sanno benissimo perché sono in questa piazza. Non come qualcun altro che era su questa piazza contro le biciclette e che era su questa piazza contro le buche e che era su questa piazza contro la ZTL. A noi quelle cose interessano molto meno. A noi interessa fermare questo spreco assurdo, idiota, sprecone che non possiamo permetterci del Tav Torino-Lione perché è un doppione. C'è già una linea, c'è già un Tesevé che viaggia, ci sono già i treni merci vuoti che circolano. Hanno voluto fare l'analisi costi-benefici. Bene, la facciano. E per fortuna l'hanno voluta fare fermando l'opera, fermando gli appalti e fermando i cantieri in Italia. Bene, non ci basta. Non ci basta. Se l'analisi costi-benefici è fatta in modo serio non potrà che dare un solo risultato. L'opera economicamente è insostenibile. E' inutile. E' ambientalmente devastante. E quindi noi diciamo basta. Diciamo è ora di fermare questo spreco. La storia delle penali è una balla pietosa. E' una balla. Ma qui ormai sono tutti abituati a raccontare balle. Non le chiamo fake news. Le chiamo proprio balle. A moda nostra. E se è il caso con una L sola ha su un macbale. E allora a tutti questi politici a tutti questi politici che vogliono il TAV a tutti i costi per poter rimpinguare le loro casse dei partiti perché le grandi opere sono grandi tangenti i grandi guadagni e perché ingrassano le mafie che sono quelle che pilotano i voti e che sono quelle che li fanno andare al potere. Bene. Bene. Noi chiediamo veramente che tutto questo abbia fine. Lo chiediamo con forza al Movimento 5 Stelle. Lo chiediamo con forza perché l'avevano scritto nel loro programma perché l'avevano detto chiaramente. Ci rendiamo conto che non sono da soli al governo e ci rendiamo conto che hanno un alleato che ha un'esperienza mille volte più forte della loro di governo di sotto governo e di tutto il resto. Ma gli chiediamo di tirar fuori le palle e di resistere e di portare a casa quello che hanno detto. Non accettiamo nessun tunnel. Sia chiaro sia chiaro che questa piazza lo dice chiaro e tondo. Il TAV Torino Leone non è mediabile. Il TAV Torino Leone si può solo non fare o se volete provare a farlo ci ritroverete tutti quanti davanti alle vostre ruspe. Ci troverete tutti quanti contro e ci troverete tutti quanti che sapremo bene che cosa fare di voi. Questo è il dato di fondo e il dato che si deve ricordare tutti e si deve ricordare sempre basta con lo spreco delle nostre tasse perché noi quelli di noi che hanno un lavoro le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo mentre invece questi in trattino prenditori che ci sono e che sono andati a incontrare il primo ministro e anche Toninelli sono persone che non sanno neanche gestire le loro aziende che le hanno mandate del culo e che le hanno delocalizzate perché sono degli incapaci questo è il messaggio chiaro e forte che dice questa piazza basta basta con voler far circolare le merci e far crepare i migranti sui monti e nel mare siamo stufi di queste storie siamo stufi non accettiamo più queste cose non accettiamo più questi sprechi non accettiamo più di essere considerati dei sudditi ma siamo dei cittadini pensanti che hanno delle pretese e che pretendono di essere ascoltati grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti